Al ventesimo forum ICT Security sono con noi Stefano Tufoni, responsabile IT Operations per Notartel, Riccardo Fiano, Sales Manager di Partec e Massimiliano Micucci, Country Sales Manager per l'Italia di One Identity. Benvenuti. Grazie. Tufoni, nel suo intervento odierno lei ha spiegato che l'adozione di processi e soluzioni per la gestione centralizzata dell'identità e il monitoraggio delle sessioni privilegiate è un fattore imprescindibile per difendersi dai cosiddetti insider threat. Puoi illustrarci il suo punto di vista in merito? Sì, anche se in Notartel non ci è mai capitato di dover fronteggiare una situazione simile siamo a corrente anche tra le statistiche che almeno un incidente di sicurezza su tre è causato da minacce interne dai cosiddetti insider threat. Per poterci difendere da queste minacce è chiaro che non è sufficiente acquistare una generica suite di sicurezza, un prodotto che sia, ma bisogna far convergere processi, responsabilità e tecnologie. Abbiamo iniziato attribuendo quindi ruoli e responsabilità, evitando di fornire accessi limitati agli operatori in modo che non potessero diventare vittime anche inconsapevoli di furto d'identità se non addirittura minacce. Detto così sembra brutto, noi abbiamo massima fiducia nei nostri collaboratori, però siamo costretti dalle norme a citare questi tipi di incidenti anche nel business impact analysis e nel risk assessment e quindi poi ci viene chiesto anche di miticarli. Successivamente quindi siamo passati ad implementare dei sistemi di gestione del ciclo di vita dell'identità e di automatismi che ci permettono appunto di gestire le identità digitali. Tra queste soluzioni troviamo quelle per il monitoraggio degli accessi privilegiati ai sistemi e ai dati che ci consentono il massimo controllo degli accessi che avvengono da parte dei nostri collaboratori o anche dei partner o consulenti esterni. Ribadisco che quindi per noi Notartel la soluzione non è solo tecnologica ma la sicurezza informatica è anche una questione culturale e che ci impegniamo costantemente a rinnovarla internamente ai nostri collaboratori. La realizzazione di un progetto così articolato ha certamente richiesto la cooperazione di diversi attori e l'integrazione di numerose tecnologie. Potrebbe illustrare l'approccio adottato al riguardo da parte? Stefano ha riassunto in maniera diciamo rapida quello che è stato un lunghissimo percorso iniziato molti anni fa da quando Notartel si è posta il problema di dover tradurre i requisiti di compliance in azioni e miglioramenti della propria organizzazione tentando quindi di tramutare questa necessità in una concreta opportunità di miglioramento. In questo processo le competenze interdisciplinari di Partec hanno sicuramente sopportato il cliente dando valore aggiunto in questo lungo processo. Da un punto di vista prettamente tecnologico il momento principale è stata l'adozione dello strumento Shell Control Box, un appliance della ex Balabit acquisita nel 2018 che serve per monitorare e tracciare le attività degli operatori. In una recente fase di progetto questo appliance è stato irrobustito con la presenza degli ulteriori due moduli che permettono l'analisi comportamentale e anche la gestione dinamica delle password garantendo quindi una maggiore robustezza nei sistemi di accesso e di autenticazione con la possibilità anche di inserire una doppia autenticazione quindi autenticazione a due fattori e dei workflow autorizzativi. Partec ha supportato e supporta i clienti attraverso l'integrazione di diverse tecnologie quindi ponendosi come centro focale di supporto di integrazione delle tecnologie supportando il cliente in tutte le fasi di quelle pre e post vendita e anche di supporto e di formazione per il personale che poi dovrà concretamente gestire i sistemi. Per parte che il trasferimento di competenze e l'empowerment nei nostri clienti è una priorità che ci siamo sempre dati perché siamo fautori e consapevolmente convinti di una strategia anti-vendor lock-in che possa permettere ai nostri clienti di emanciparsi e essere autonomi delle proprie scelte architetturali. Si è parlato più volte delle esigenze dei provider. Le vostre soluzioni possono essere applicate con successo anche in differenti settori? Sì certamente. Il mercato dei fornitori di servizio, in particolare Telco ma non solo, Tartella ha un profilo di fornitori di servizi a più ampio spettro, è sicuramente un mercato forse il primo di riferimento per la disciplina della gestione di account privilegiati e del mercato che è quello che ci interessa sviluppare. È evidente però che invece questa tematica non è necessariamente solo legata a fornitori di servizi ma ha un aspetto molto più ampio dal punto di vista della potenzialità del mercato. Sicuramente i fornitori di servizi sono stati quelli che per primi sono posti tematiche legate a compliance, a standard normativi, quindi hanno subito una pressione normativa sicuramente molto più forte che la spinti a essere i primi e a muoversi a fare questo tipo di investimenti. Ma come operatori di questo mercato non vediamo una straordinaria potenzialità a prescindere dall'industria e anche a prescindere la dimensione dell'organizzazione. Pressione normativa che adesso si estende a prescindere dal mercato con riferimento ad esempio alla GDPR e a tutta la questione legata alla nuova normativa della privacy. Non c'è chiaramente un esplicito riferimento al fatto che occorre monitorare le sessioni di amministrazione degli utenti che assumono privilegi amministrativi ma è evidente che fare questo tipo di investimento consente di ridurre in maniera significativa alla superficie d'attacco con progetti peraltro che hanno un ciclo di vita relativamente breve se confrontate con altre iniziative in ambito sicurezza. Quindi per rispondere alla domanda no il mercato non è soltanto telco, non è soltanto provider ma è un mercato molto più ampio e noi abbiamo parecchi casi gestiti con realtà di dimensioni molto più piccole. Alla fine quello che facciamo con questo tipo di soluzione è risolvere un problema molto concreto, molto immediato che è quello di fare in maniera tale che non ci sia un account impersonale che laddove questi esistono vengono gestiti, le credenziali vengono poste in una cassaforte fondamentalmente, in un vault sicuro, le sessioni di questi utenti vengono monitorate e si possa anche aggiungere delle componenti più evolute associate alla behavior analytics. Ecco quest'ultima componente si sposa molto bene con la tematica GDPR. Intercettare un incidente di sicurezza nel momento in cui sta avvenendo consente all'azienda che purtroppo lo subisce di essere molto più pronta nel verificare cosa sta accadendo. Essere notificata dell'esistenza in un data breach nel momento in cui avviene costituisce un vantaggio notevole. Dico sempre che l'adozione di questo tipo di tecnologie, la nostra in particolare ovviamente, consente di trasformare quello che è probabilmente un banale incidente di sicurezza e gestirlo e evitare che si trasformi in un disastro. Quindi il data breach che determina come sappiamo insomma anche una visibilità molto negativa per l'organizzazione che lo subisce. Grazie a tutti voi e buon proseguimento dei lavori. Grazie.